Cronache marziane di Ray Bradbury Traduzione di Giorgio Monicelli Lettura di Damiano Mostacce Agosto 2002, incontro di notte. Prima di avviarsi su per le colline azzurre, Tomas Gomez si fermò a fare il pieno di benzina davanti al solitario posto di rifornimento. «Un luogo piuttosto isolato questo, eh nonno?» disse Tomas. Il vecchio si mise a spolverare il parabrezza del camioncino. «Non c'è male». «Ti piace Marte, nonno?» «Molto. C'è sempre qualche cosa di nuovo. Decisi quando venni qui l'anno scorso di non aspettarmi nulla, di non chiedere nulla, di non stupirmi di nulla. Dobbiamo dimenticare la terra e la vita che ci facevamo. Dobbiamo tenere presente il motivo per cui siamo qui, e la diversità di questo mondo. Io mi sono divertito straordinariamente solo a vedere il tempo che ci fa su questo pianeta. È meteorologia marziana, capisci? Caldo infernale di giorno, freddo dannato la notte. La soddisfazione che si ha a vedere come sono diversi fiori, com'è differente la pioggia, dove la metti? Sono venuto su Marte quando sono andato in pensione, e ho voluto andare in pensione in un posto dove tutto fosse diverso. Un vecchio ha bisogno di avere intorno delle cose diverse. I giovani si annoiano a parlare con un vecchio, e gli altri vecchi lo annoiano terribilmente. Per cui pensai che la cosa migliore per me fosse scegliere un posto così diverso che bastasse aprire gli occhi intorno per divertirsi. Sono riuscito a ottenere questa stazione di rifornimento. Se ci sarà da sgobbare troppo, mi trasferirò su qualche altra arteria meno densa di traffico, dove mi sia possibile guadagnare abbastanza da vivere, e insieme avere il tempo di avvertire la differenza delle cose qui. E l'hai pensata giusta, nonno, disse Tomas, le mani brune abbandonate languidamente sul volante. Era contento, a suo agio. Aveva lavorato sodo per dieci giorni di fila in una delle nuove colonie, ed ora aveva due giorni di ferie e si stava recando a una festicciola. Non c'è più nulla che mi stupisca ormai, riprese il vecchio. Mi limito a guardare intorno, a fare prove. Se non puoi prendere Marte per quello che è, tanto vale tornare sulla Terra. Tutto è pazzo quassù. Il suolo, l'aria, i canali, gli indigeni. Io non ho mai visto uno, ma sento dire che se ne vedono. Gli orologi. Perfino il mio orologio si comporta da pazzo. Perfino il tempo fa il pazzo quassù. Talvolta sento che sono qui tutto solo, che non c'è nessun altro su questo pianeta matto. Ci scommetterei non so che su questo pianeta. Alle volte è come se non avessi più di otto anni, col corpo tutto striminzito e ogni altra cosa alta, grande, che mi schiaccia. Gesù, questo è il pianeta che ci vuole, un vecchio. Mi tiene sveglio. Mi tiene allegro. Vuoi sapere che cos'è Marte? È come un regalo che mi fecero per Natale settant'anni fa. Non so se ne hai mai avuto uno. Li chiamavano kaleidoscopi. Erano fatti di pezzettini di vetro e di stoffa, di perline e di cianfusagli, insomma. Lo guardavi contro luce e... ti toglieva il fiato. Quanti disegni, immagini, figure ci vedevi. Va bene, Marte è così. Godilo. Non chiedergli di essere qualche altra cosa. Gesù, ma lo sai che quella magnifica strada fra i monti costruita dai marziani ha più di sedici secoli ed ancora in buone condizioni. È un dollaro e cinquanta cents. Grazie e buon viaggio. Thomas si lanciò sull'antica autostrada, ridendo in silenzio tra sé. Era una strada lunghissima che si perdeva nelle tenebre e fra le montagne e lui teneva bene il volante allungando ogni tanto la mano verso il sacchetto della colazione per trarne fuori un buon boccone. Viaggiava, ormai da un'ora, senza vedere mai un'altra macchina, un'altra luce, soltanto la strada che spariva rapida sotto le ruote anteriori e il ronzio, il mugire del motore e i Marte tutto intorno, in quella pace immensa. Marte era sempre silenzioso, ma questa notte era ancora più silenzioso. I deserti, i mari inariditi, gli fuggivano accanto, con le montagne sullo sfondo stellato. C'era come un odor di tempo nell'aria quella notte. Thomas sorrise all'idea, continuando a rimuginarla. Era una strana idea. E che odore aveva il tempo, poi? Odorava di polvere, d'orologi e di gente. E che suono aveva il tempo? Faceva un rumore di acque correnti nei recessi bui d'una grotta e di voci querule e di terra tambureggiante con suono cavo su coperchi di casse e rumore di pioggia. E, per giungere alle estreme conseguenze, che aspetto aveva il tempo? Il tempo era come neve che cade senza rumore in una camera buia o come un film muto in un'antica sala per spettacoli. Cento miliardi di facce cadenti come quei palloncini di capodanno, giù, sempre più giù, nel nulla. Così il tempo odorava. Questo era il rumore che faceva. Era così che appariva. E quella notte, Thomas immerse una mano nel vento fuori della vettura, quella notte tu quasi lo potevi toccare, il tempo. Egli guidava il camioncino fra montagne di tempo. Si sentì venire la pelle d'oca e allora si resse sulla persona guardando bene avanti a sé. Entrò in una morta cittadina marziana, fermò il motore e lasciò che il silenzio si insinuasse tutto intorno a lui. Sedeva al volante, trattenendo il respiro, guardando fuori i bianchi edifici nel chiaro di luna. Disabitata da secoli. Perfetta, impeccabile, irrovina, sì, ma ciò non di meno perfetta. Riaccesi il motore e percorso un altro miglio o anche più prima di fermarsi di nuovo, scendere col sacchetto della colazione in mano e dirigersi verso un piccolo promontorio dove si poteva vedere distintamente in lontananza quella città polverosa. Aprì il termos e si mescè una tazza di caffè. Un uccello notturno gli svolazzò vicino. Thomas si sentiva contento, soddisfatto, pieno di serenità e di pace. Cinque minuti più tardi, forse, udì un rumore. Molto lontano sulla montagna, là dove la grande strada faceva una curva, qualcosa si muoveva, si vedeva una luce fioca, infine un murmure vago. Thomas si girò lentamente, la tazza di caffè nella destra, e di tra le alture vide giungere una stranissima cosa. Era una macchina come un insetto d'un verde giada, una specie di mantide religiosa, delicatamente in corsa nell'aria fredda, con innumeri e indistinti diamanti verdi che ammiccavano su tutto il corpo e russe gemme scintillanti negli occhi sfaccettati. Le sei zampe martellavano l'antichissima autostrada col suono alterno di una pioggia sparsa che in lontananza diventava sempre più rada, e dal di dietro della macchina un marziano con occhi d'oro fuso guardava giù verso Thomas, come stesse guardando in fondo a un pozzo. Thomas alzò la mano e meccanicamente pensò ciao, ma le sue labbra non si mossero perché quello era un marziano. Ma Thomas aveva nuotato nelle acque di azzurre fiumane sulla terra con gente straniera che passava sulla strada e mangiato i strane case insieme con gente strana e la sua arma era sempre stata il sorriso. Non aveva pistole con sé, né sentiva la necessità di averne una ora nemmeno con la piccola paura che in quel momento gli si veniva raccogliendo nel cuore. Anche le mani del marziano erano vuote. Per un istante i due esseri si guardarono l'un l'altro nell'aria fredda. Fu Thomas che fece la prima mossa. Salute! gridò. Non si capivano. «Hai detto salute?» domandarono entrambi. «Che cosa hai detto?» dissero subito poi ognuno nella propria lingua. Fecero entrambi il cipiglio. «Chi sei?» domandò Thomas in inglese. «Che stai facendo qui?» questo immarziano e le labbra dello sconosciuto si mossero. «Dove vai?» dissero entrambi e parevano stupiti. «Io sono Thomas Gomez!» «Io sono Mujeka!» Nessuno dei due capì ma si batterono ognuno il petto dicendo le parole e alla fine tutto divenne chiaro. E allora il marziano si mise a ridere. «Aspetta!» Thomas si sentì toccare la testa ma nessuna mano lo aveva sfiorato. «Ecco!» disse il marziano in inglese. «Così va meglio!» «Ha imparato la mia lingua e così presto!» «Niente di speciale!» guardarono impacciati da una nuova pausa di silenzio il caffè fumante che Thomas aveva nella mano. «E' una cosa diversa!» disse il marziano guardando e l'uomo e il caffè riferendosi a entrambi forse. «Posso offrirti qualcosa da bere?» disse Thomas. «Sì, grazie!» il marziano scese dalla sua macchina. Una seconda tazzina fu tratta dal sacchetto e riempita fumante. Thomas gliela porse. Le loro mani si incontrarono e come nebbia si fusero una nell'altra. «Gesù!» esclamò Thomas lasciando cadere la tazzina. «Per tutti gli dèi!» disse il marziano nella sua lingua. «Hai visto che cosa è successo?» sussurrarono entrambi. Entrambi avevano un gran freddo erano in preda al terrore. Il marziano si chinò per toccare la tazzina ma non poté toccarla. «Gesù!» esclamò ancora Thomas. «Davvero?» il marziano tentò ancora e poi ancora una volta di raccattare la tazza ma non vi riuscì. Si levò il ritto e riflette per un momento quindi si tolse un coltello dalla cintura. «Ehi!» gridò Thomas «Non malintendere! Prendilo!» disse il marziano e lanciò il coltello. Thomas fece coppa delle mani il coltello volò attraverso la carne e andò a finire in terra. Thomas si chinò per prenderlo ma non pote toccarlo e indietreggiò di qualche passo rabbrividendo. guardò poi il marziano sullo sfondo del cielo «Le stelle!» disse «Le stelle!» disse il marziano guardando a sua volta Thomas «Le stelle scintillavano nitide e bianche oltre la carne del marziano ed erano cucite nella sua carne come scintille inghiottite nella membrana sottile fosforescente di un pesce gelatinoso. si potevano vedere stelle sfavillare come occhi violetti nello stomaco e nel petto del marziano e attraverso i polsi come gioielli. «Tu sei trasparente!» gridò Thomas «Anche tu!» disse il marziano facendo un passo indietro. Thomas si dette a palpare il proprio corpo e sentendo nel calore si tranquillizzò un poco «Sono reale tangibile» si disse. il marziano si toccò il naso e le labbra «Son fatto di carne» disse a mezza voce «Sono vivo» Thomas guardò l'altro essere «E se io sono reale» disse «Vuol dire che tu devi essere morto» «No tu! Uno spirito disincarnato un fantasma!» Ognuno puntava il dito verso l'altro con la luce delle stelle che ardeva nel loro membra come lame di ghiaccio ghiacciuoli e lucciole poi si palparono ognuno le carni ognuno ritrovando se stesso compatto caldo commosso sbalordito e riverente e l'altro sì quell'altro che gli stava di fronte un prisma spettrale che rifletteva la somma di luce di mondi lontanissimi «Sono ubriaco» pensò Thomas «Non dirò niente a nessuno domani di quello che mi sta accadendo ora niente del tutto» stavano ritti entrambi sull'antichissima autostrada e nessuno dei due mostrava la minima intenzione di muoversi «Da dove vieni?» domandò alla fine il marziano «Dalla terra» «Che cos'è?» «Guarda è quella là» e Thomas indicò un punto nel cielo «Quando sei arrivato?» «Sbarcammo un anno fa circa non te ne ricordi?» «No» «E tutti voi eravate morti meno qualcuno siete rarissimi voi altri lo sai questo non è vero?» «Non è precisamente così» «Sì tutti morti ho visto i corpi neri nelle stanze nelle case morti migliaia e migliaia» «Ciò è ridicolo noi siamo vivi» «Amico il tuo pianeta è stato invaso ma tu non lo sai devi essere scappato quando noi siamo arrivati» «Io non sono scappato non c'era nulla da cui bisognasse fuggire che cosa intendi? Io sto andando ora a un festival sul canale presso le montagne Nial ci sono stato anche la notte scorsa non vedi la città laggiù» e il Tomas guardò e vide le rovine «Ma quel villaggio è morto da migliaia di anni!» Il marziano si mise a ridere «Morto? Ma se ieri io ci ho dormito!» «E io ci sono stato una settimana fa e la settimana precedente e ci sono passato con la mia macchina poco fa e sono tutti ruderi non vedi quelle colonne spezzate?» «Spezzate! Io le vedo perfettamente grazie anche al chiaro di luna e per me quelle colonne sono erette e intatte!» «Tutta quella polvere per le strade cittadine!» «Sono strade pulitissime!» «I canali sono vuoti laggiù!» «I canali sono ricolmi di vinte lavanda!» «È tutto morto!» «È tutto vivo!» protestò il marziano scoppiando a ridere di tutto cuore. «Oh ma come ti sbagli! Non vedi tutte le luminarie del carnevale! Ci sono barche bellissime esili come donne! Donne bellissime esili come condole! Donne color telesabbie! Donne con fiori di fuoco nelle mani! Posso vederle piccole piccole di qua correre per quelle vie! Ed è là che ora vado al festival! Navicheremo sulle acque, canteremo, berremo, ameremo! Possibile che tu non riesca a vedere tutto questo! Amico, quella città è morta come una lucertola secca! Ciedila a qualcuno, a chiunque dei nostri! Io questa sera sono diretto a Green City, è la nuova colonia che abbiamo fondato laggiù, presso la strada maestra dell'Illinois. Abbiamo trasportato fin là un milione di tavole di magnifico legname dell'Illinois e 24 tonnellate di buoni chiodi d'acciaio e a martellate abbiamo così messo insieme due dei più bei villaggi che tu abbia mai visto. Stasera ne inauguriamo uno. Un paio di astronavi sono in arrivo dalla terra con a bordo le nostre mogli e le nostre ragazze. Ci saranno danze campestri e whisky. il marziano parve improvvisamente impressionato. hai detto che è laggiù in quella direzione? Sì guarda ci sono i due razzi guidò il marziano fin sull'orlo del poggio e puntò l'indice vedi? No ma come accidenti guarda di là quei lunghi dardi d'argento non vedo niente fut tomas ora che si mise a ridere amico ma tu sei cieco io ci vedo benissimo sei tu che non vedi ma il nuovo villaggio quello lo vedi no? io non vedo altro che un oceano e la marea è bassa amico di marte l'acqua di quell'oceano è svaporata da almeno 40 secoli ah ma ora questo è troppo è la pura verità credimi il marziano si fece molto serio dimmi veramente tu non vedi la città che ti ho descritta le colonne bianche le barche sottili le luci del festival oh io le vedo nitidissime e senti io do cantare non sono poi così lontani thomas tese l'orecchio e infine crollò il capo non sento nulla e io per parte mia disse il marziano non posso vedere quello che tu descrivi strano avevano ancora freddo entrambi il ghiaccio era di nuovo nelle loro carni ma non potrebbe essere per caso che hai detto poco fa che siete venuti dal cielo ho detto che veniamo dalla terra la terra non è che un nome è niente disse il marziano ma mentre venivo su per il passo un ora fa e si toccò con aria incerta la nuca ho avuto una sensazione di freddo come se la carne ti si raggregiasse sì e ora ancora questa sensazione di cielo che strano c'era qualcosa nella luce nei monti nella strada disse il marziano ho sentito la stranezza di quella sensazione ho visto la strada la luce come se in quel momento io fossi l'ultimo essere vivente su questo pianeta e io pure disse thomas in quel momento fu per lui come parlare a un vecchio carissimo amico confidandosi sentendosi il cuore più caldo a misura che l'argomento veniva approfondito il marziano chiuse chiuse gli occhi li riaprì tutto ciò non può che voler dire una cosa una cosa che si riferisce al tempo sì tu sei un elemento costitutivo del passato no tu sì che sei del passato ribatte l'uomo della terra che ora aveva avuto tempo di pensarci tu hai l'aria così sicura come puoi riconoscere con certezza chi viene dal passato chi appartiene al futuro in che anno siamo nel 2002 è un numero che per me non ha significato thomas riflette un istante prima di rispondere con un'alzata di spalle già che può dire a te è come se io ti dicessi che siamo nell'anno 4 milioni 462 853 s e c nulla è più che nulla dov'è l'orologio che possa indicarci il punto preciso delle stelle ma le rovine qualche cosa dimostrano dimostrano che io sono il tuo futuro e sono vivo e tu morto tutto in me nega questo che dici il mio cuore batte il mio stomaco ha fame la mia bocca ha sete no né morti né vivi tu e io più vivi di ogni altra cosa ma presi in mezzo direi due sconosciuti che si sfiorano nelle tenebre della notte ecco che cosa siamo due sconosciuti in cammino rovine dici sì ti fanno paura chi vuole veramente vedere il futuro chi mai lo vuole un uomo potrà meditare sul passato ma quanto a pensare le colonne infrante cadute hai detto e il mare inarudito i canali prosciugati morte le vergini appassiti i fiori il marziano tacque ma poi volse gli sguardi avanti a sé ma se tutto ciò è laggiù vedo tutte queste cose e ciò non deve bastarmi mi stanno aspettando ora qualunque cosa tu mi dica e per thomas esistevano i razzi lontanissimi che lo aspettavano qualunque cosa il marziano potesse dirgli e le donne venute dalla terra e la colonia non potremo mai intenderci disse cerchiamo allora di intenderci sul fatto che non ci intendiamo disse il marziano quale importanza può avere chi sia il passato e chi il futuro se entrambi siamo vivi e quanto succede succederà domani o fra diecimila anni come fai a sapere che quei templi non saranno i templi della tua civiltà fra cento secoli infranti e in rovina non lo puoi sapere perciò non domandare ma la notte è molto breve guarda lassù nel cielo i fuochi del festival e gli uccelli thomas tese la mano e il marziano fece lo stesso per spirito di imitazione le loro mani non si toccarono si fusero come nebbia l'una nell'altra ci incontreremo ancora chissà forse qualche altra notte mi piacerebbe venire con te al festival e a me piacerebbe poter venire nella tua nuova città a vedere quest'astronave di cui mi hai parlato a vedere questi uomini udire tutto quello che è accaduto arrivederci disse thomas felice notte il marziano guidò il suo congegno di metallo verde sempre più lontano tra le montagne silenziosamente l'uomo della terra voltò il suo veicolo e lo guidò silenziosamente nella direzione opposta grandio che sogno è stato mai sospirò thomas le mani sul volante pensando ai razzi alle donne al whisky greggio alle antiche danze campestre della virginia e alla festa che strana visione ho avuto pensò il marziano continuando la sua corsa ansioso di giungere in tempo al festival pensando ai canali alle barche alle donne dagli occhi d'oro e alle canzoni la notte era oscura le lune erano tramontate la luce delle stelle scintillava sulla strada deserta dove non era suono veicolo o persona nulla e che rimase così per tutto il resto della fredda notte oscura grazie per l'ascolto se il racconto ti è piaciuto per favore metti un like per sostenere il canale inoltre chiunque desiderasse fare una piccola donazione per il mio canale può andare nel link riportato sotto in descrizione grazie ancora e alla prossima grazie a tutti